Onorevole Muroni, oggi il governo propone l'eco-tassa sui veicoli, una misura che ritiene giusta nelle intenzioni ma meno nella realizzazione, per quale motivo? Giusta nelle intenzioni perché è giusto applicare il principio che chi inquina deve pagare di più, sbagliato nella realizzazione perché non si può procedere a settori stagni, non si può attaccare il mercato delle automobili, però contemporaneamente non lavorare sulla mobilità collettiva. Soprattutto queste sono misure che andrebbero studiate, ragionate con il sindacato, con il mondo produttivo e informare i cittadini su quello che si sta facendo. Arrivata così dall'alto in maniera isolata rischia di essere una misura impopolare che non aiuta la causa.